C'era a tutti? Salve, salve mister, buonasera. Oggi pomeriggio il lì presente Luca Ussia, quando gli ho chiesto che mezzo sarebbe secondo te capello se fosse una macchina o una moto, mi ha suggerito una Bentley, perché c'è questa cosa mister, che lei con questa meravigliosa passione che ha per l'arte finisce per essere accostato a mezzi tutta eleganza e tutto comfort e pochi fatti. Invece secondo me la questione più seria per lei che è tenace, bisiacco, uomo di sostanza, grande macinatore di chilometri e di trionfi e di successi, lei senza che sia un'offesa per niente è un bel Kamaz. Il Kamaz lo sa meglio di me probabilmente è un camion russo, un enorme camion russo utilizzato dall'esercito, nato per fare chilometri, per saltare, per non rompersi davanti a niente, un camion russo da 13.000 cc di cilindrata, 1000 cavalli, che come lei o giù di lì ha vinto 10 Parigi Dakar nel breve volgere di una quindicina d'anni, quindi un dominatore assoluto, un conquistatore del mondo, un po' come è stato lei, a 200 km orari, con un camion è un bel andare, no? Ecco, mi sembra una cosa bella di sostanza. Poi voglio dire, se vogliamo accontentare Ussia e forse anche lei, mister, questo bel Kamaz lo possiamo prendere, pitturare di blu presidenziale e nel cassone metterci una bella mostra d'arte così che nei momenti di pausa possa godersela come meglio crede. Grazie e complimenti sinceri per tutto.